L'idea che si è già diffusa in tante chiese, in tante realtà ecclesiali della festa della parola di Dio, che trova conferma e riproposizione a livello universale da parte del Papa nella sua lettera dopo il Giubileo. E qui noi dobbiamo trovare tante iniziative, ma anche mandare un messaggio forte e scarno, la parola di Dio che entra nell'assemblea processionalmente, la parola di Dio che viene venerata, la parola di Dio che viene letta, la parola di Dio che viene spiegata e la parola di Dio che viene diffusa al di fuori della chiesa e dell'assemblea liturgica. Penso che attraverso questa festa della parola, questa domenica della parola, la parola di Dio, come dicono gli atti degli apostoli al capitolo dodicesimo, la parola di Dio cresceva e si diffondeva, la parola di Dio crescerà e si diffonderà in mezzo a noi. E qui noi vediamo realizzarsi allora, a partire dall'amore e la venerazione per la parola di Dio, quello che lo sesto diceva durante il concilio nell'Ecclesi Ansuam, la chiesa si fa colloquio, sì la chiesa si fa parola e colloquio con la gente.